Allora, noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa, lavorando sui file, eravamo visto in particolare alcuni esempi di elaborazione di file di testo in formato libero. Per noi erano dei testi liberi in cui dovevamo andare a evidenziare magari delle parole, delle frasi, dei caratteri in essi contenuti. Però la struttura del file, oltre al fatto di sapere che era un file di testo, non era definita in nessun modo. Questo può capitare quando abbiamo dei file che rappresentano dei testi, delle narrazioni, ma molto più spesso un file contiene dei dati. Allora esistono, oltre ovviamente ai formati proprietari, binari, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, esistono i formati testuali anche per rappresentare e raccogliere file che contengono dei dati. E ovviamente i dati in questi file dovranno essere organizzati in qualche modo, in modo che sia facilmente riconoscibile. In qualche modo tendiamo a classificare informazioni di questo genere come file strutturati con record di dati. Immaginate un esempio classico in cui abbiamo l'elenco degli studenti iscritti a questo corso, abbiamo tanti studenti, ciascuno rappresentato da un record di informazioni e ciascun record, quindi ciascuna registrazione, ciascun dato di una persona ha una serie di campi, il nome, il cognome, il numero di matricola, il corso in cui siete iscritti, quanti esami avete dato, queste belle cose. Quindi abbiamo una molteplicità di record, ciascuno dei quali ha la stessa tipologia di informazioni e poi ovviamente i valori saranno diversi tra ciascuno, il cognome tuo è diverso dal cognome suo ovviamente. Quindi abbiamo questa terminologia, ciascuna informazione è composta da più campi, più valori e nel suo insieme questi campi formano un record, un dato essenzialmente. E quindi in qualche modo come rappresentiamo le informazioni di questo genere in un file di testo? Ad esempio se noi avessimo, questo è un absurdo codice, non è ancora codice, noi in qualche modo il file conterrà uno dopo l'altro il record dei diversi studenti o dei diversi dati che dobbiamo trattare. E quindi in qualche modo elaborando file di questo genere dovremmo strutturare la lettura delle informazioni cercando di leggere non un dato per volta, non una parola, non una riga ma un record. Poi che questo record occupi una riga, ne occupi metà, occupi cinque righe dipenderà da come abbiamo formattato il file, da quali sono le regole di costruzione del file. Però ragioneremo dicendo a certo punto l'operazione atomica, l'operazione fondamentale di base nella lettura di un file che contiene dei dati è leggere un singolo record. Non mi serve leggere solamente il nome senza il cognome perché non ho le informazioni complete diciamo così sullo studente. E poi ovviamente dovrò fare l'elaborazione che devo fare con questi record, memorizzarli, stamparli, filtrarli eccetera. Ci sono vari modi di organizzare l'informazione in questo modo. Il più semplice è quello di avere un record per linea, come dice il titolo di questa slide, con i campi delimitati. Quindi ogni linea del file, e quando io dico ogni linea mi viene già in mente che lo posso leggere facilmente con la read line, oppure direttamente con un ciclo for che itera sull'oggetto file. Quindi quando leggo una riga, leggo in quella riga tutte le informazioni su un singolo record. E i vari campi di questo record li identifico attraverso un carattere separatore. Cioè mi scelgo un carattere speciale che uso per separare i vari record sulla stessa riga. Qui nell'esempio sotto c'è un frammento di quello che potrebbe essere un file con i nomi di una nazione e la popolazione di questa nazione, separati da un due punti. Quindi ogni riga rappresenta un record, ogni record contiene due campi, il nome della nazione che è una stringa e la popolazione che ha un intero. separatore. Questi due campi sono separati da un carattere separatore che in questo caso è due punti. Abbiamo scelto di formattarlo così. È ovvio che il carattere separatore è bene che non compaia all'interno dei campi, sennò creiamo confusione. Io non potrei usare con questi dati come separatore uno spazio, perché lo spazio è un carattere valido nei nomi di alcune nazioni, come ad esempio qua United States, nel suo nome proprio ha un spazio contenuto. Quindi dovrò scegliere, utilizzare un carattere separatore che non sia ambiguo rispetto, in modo che io sia in grado di capire esattamente se quel separatore separa due record oppure è parte del contenuto di un campo. così che non potrò usare lo zero come separatore o altro, forse non mi sarebbe mai venuto in mente di usare lo zero. Quindi un file, come vedete, non è più un formato libero, ci scrivo le cose che voglio, vado a capo quando mi piace. No, vado a capo alla fine di ogni record e ogni riga ha un formato ben preciso, ok? Allora, un file di questo genere è facile da leggere perché basta che io leggo una riga per volta, dicevo, o con la read line oppure con for riga in file e per ogni riga semplicemente uso lo split, la funzione split, per dividere quella stringa che rappresenta la riga in una lista di stringhe che rappresentano i singoli campi. Quindi avrò a un certo punto il primo campo della lista che contiene appunto il primo campo presente nel file e il secondo campo che contierrà il secondo. Questi mi vengono fuori gratis dalla funzione split. Oppure, adesso vediamo un po' di esempi in generale e poi faremo degli esercizi, oppure uno potrebbe immaginare che il separatore di campo sia anch'esso un carattere di a capo. Cioè cosa vuol dire in questo caso? Vuol dire che un record non occupa più una linea sola, ma occupa tante linee del file. Quindi le prime due linee sono le informazioni sul primo record, le seconde due linee sono le informazioni sul secondo record e così via, a due a due. Quindi io in qualche modo non leggo una riga per volta, leggerò un pacchetto di righe per volta, di lunghezza pari al numero di campi di cui è composto il record. E ciascun dato che leggo su una riga separata sarà un campo diverso. Quindi in questo caso dove ho record di due campi, tutte le righe dispari del file contengono il nome, tutte le righe pari contengono la popolazione. Quindi a livello di codice anche lì avrò sempre un ciclo che si legge il file una riga per volta, ma poi le righe le tratto in modo diverso. Quindi tipicamente a fare una read line lo salvo nel nome, una seconda read line lo salvo nella popolazione convertendolo in intero e poi itero dentro un ciclo fino a quando ci sono eventuali ulteriori linee. Quindi dentro il ciclo non leggerò una riga sola e leggerò due. Questo mi toglie di imbarazzo in un certo senso la scelta del separatore perché ogni dato è pulito, separato su una riga diversa, mi complica un pochino di più la vita perché mentre prima con una sola read line mi dava tutte le informazioni su un singolo record, adesso non devo fare un certo numero quindi complico forse un pochino il codice. Però è un altro formato possibile. In questo caso, ecco qua c'è un esempio di codice che potrebbe essere usato per leggere il file nel formato che abbiamo appena visto in cui leggo la prima riga del file che conterrà il nome della prima nazione. e infatti questa line che ho letto qua la salvo dentro country name. Beh, r-strip ci serve per cancellare il carattere di fine linea che c'è sempre. Poi leggerò una seconda linea che per me sarà la popolazione della prima nazione, la converto in intero e la salvo dentro la popolazione. Quindi a questo punto qua in questa riga ho due variabili, la stringa country name e l'intero popolazione e faccio ciò che devo farlo. se voglio posso salvarle in una lista a sua volta, creare una tupla con la coppia dei due elementi, far la somma delle popolazioni, faccio insomma le operazioni che mi vengono richieste. E poi mi predispongo per leggere, per tornare su e leggere il record successivo. Ovviamente, come sempre, in un ciclo ho predisposto la lettura della prima linea e poi prima di tornare su dovrò rileggere la prima riga del record successivo. Fino a quando? Beh, fino a quando il file non è finito. Quindi qui abbiamo la solita test, la linea che ho appena letto non è stringa vuota, dove stringa vuota, ricordiamoci, è l'indicatore, la sentinella, che ci dice che il file è terminato. Ho già letto l'ultima riga del file e non ce ne sono altre. Non rappresenta una riga vuota, in questo caso qua non dovrebbero esserci un file di questo genere a righe vuote, perché la riga vuota contiene invece un singolo carattere che è il carattere di a capo. Quando invece non c'è neanche il carattere di a capo vuol dire che il file è finito del tutto e quindi posso, devo uscire dal ciclo perché non c'è più nulla da leggere. Quindi sono piccole varianti sulle cose che già conosciamo in certo senso. Qualora abbiamo un file, soprattutto del primo tipo, ma anche del secondo, uno potrebbe pensare di semplificarsi la vita leggendo il file in un unico boccone, se il file non è troppo grande. Abbiamo già visto una volta scorsa che se io faccio, uso il metodo read su un intero file senza specificare il numero di caratteri, a volte usiamo read di uno per darmi il prossimo carattere, se uso il read senza nessun parametro, lui legge l'intero file in un'unica megastringa. Questa megastringa contiene tutto il file compreso i separatori di linea. Quindi andando a vedere questa stringa e cercando dove sono i barra n, caratteri a capo, posso capire, posso ricostruire le varie linee. Quindi tipicamente quello che potrei fare, una volta che ho letto l'intero file, posso applicare il metodo split usando come separatore questa volta il fine linea. Che cosa otterrò? Otterrò una lista di stringhe, ciascuna delle quali corrisponde a una singola riga del file originario. Questo qui lo split l'ho usato per separare le varie righe in tante stringhe diverse. Poi eventualmente se queste stringhe a loro volta fossero composte da più campi con un separatore, potrò fare o dovrò fare uno split successivo all'interno di ciascuna riga per andare a prendere i singoli campi. C'è un metodo split lines che in realtà fa la stessa cosa, quindi anziché evita di scrivermi il barra n qua sotto come argomento, però parte comunque sempre da una stringa che contenga al suo interno più linee, quindi una stringa unica e contiene varie righe separate dal carattere di a capo. Quindi questo è un altro modo. O leggo una riga per volta e la elaboro, leggo una riga per volta sotto forma di stringa e elaboro una riga per volta, una stringa per volta, oppure leggo tutto il file come un'unica stringa, spezzo questa stringa ovviamente nelle sue righe componenti e poi faccio ovviamente lo stesso lavoro. Esiste anche la scorciatoia dei metodi precedenti, l'avevamo già accennato la volta scorsa, il metodo read lines, quindi non comprendiamoci con i nomi, questo di prima si chiama split lines e lavora assolutamente sulle stringhe. prende una stringa lunga che contiene tanti campi separati da capo, tanti records separati da capo e lo divide in una lista di stringhe. Invece il read lines fa lo stesso lavoro ma partendo direttamente dal file. la differenza tra queste due è che questa riceve, diciamo, il metodo read lines si applica a un oggetto di tipo file mentre il metodo split lines si applica a una stringa, un oggetto di tipo string, che quindi dovrò aver letto precedentemente. Read lines fa già questo lavoro per noi nel senso che legge una riga per volta nel file e ciascuna riga la appende ad una lista che è quella che mi viene restituita. Quindi alla fine della fiera, in tutti questi modi, avrò sempre la stessa cosa. Una lista di stringhe e ciascuna stringa contiene una riga del file. La piccola differenza tra i vari metodi è se queste stringhe che sono messe dentro questa lista contengano oppure meno il carattere di fine linea. Nel senso che con la read lines ogni riga contiene il suo terminatore di linea, con lo split invece no perché il terminatore viene mangiato, viene assorbito, consumato dall'operazione di split e quindi i singoli pezzi componenti non hanno più dentro il bar n finale. Quindi bisogna solo ricordarci se c'è il città fastidio lo dobbiamo togliere. Ok, questi sono poi alla fine i soliti metodi. Non c'è nulla di nuovo. Proviamo con qualche esempio ad applicarli. Prima di passare agli esempi vi presento una nuova istruzione che potete usare o no come preferite ma in alcuni casi una scorciatoia anche qua che in qualche modo condensa in un'unica istruzione l'operazione di apertura e di chiusura del file. Dicevamo la volta scorsa ogni volta che apro un file faccio una open sull'oggetto file farò poi tutte le operazioni di lettura o di scrittura se l'ho aperto in scrittura ma poi devo ricordarmi di chiuderlo questo file. Quando so che non mi serve più lo chiudo. Allora, poiché di solito il blocco in cui leggo il file, lo scrivo, insomma lavoro col file è un blocco abbastanza ben definito nel programma poi dopo faccio altre cose avrò alla fine quel blocco un'operazione di close e devo ricordarmela. In alternativa questa istruzione with è un'istruzione che apre un nuovo blocco python, un nuovo blocco indentato vedete che c'è due punti al fondo come se fosse una if come se fosse una while questa apre un nuovo blocco e all'interno di quel blocco è definito quel file cosa succede? che in automatico quando io esco questo blocco non crea nessun ciclo niente semplicemente esegue le istruzioni che sono dentro con questo file aperto as out file semplicemente questa clausola as da il nome, la variabile che useremo per accedere al file quindi anziché scrivere out file uguale open possiamo scrivere with open as out file il vantaggio è che automaticamente quando il mio codice esce da questo blocco with e quindi di fatto quando da questa indentazione torno indietro automaticamente viene chiuso il file quindi non c'è il rischio di dimenticarlo perché lo fa lui in automatico quando esce dal blocco questa è una comodità non cambia nulla nella sostanza ovviamente questo out file a sua volta dovrò iterare per leggere le righe per separarle eccetera eccetera semplicemente se lo faccio dentro il blocco with sono sicuro che dentro quel blocco ho accesso al file fuori da quel blocco il file è chiuso e quindi non ho più accesso non ho rischio di avere dei file aperti dimenticati in giro adesso magari quando facciamo il prossimo esempio lo vediamo nei due modi per capire la piccolissima differenza ok proviamo a vedere qualche esempio primo esercizio ci dice allora immaginiamo di avere un file che contiene dei dati strutturati questi dati sono delle coordinate x y un record per riga separate da spazio non lo dice esattamente in queste parole dice una coppia per riga ma una coppia i due componenti i due campi della riga i due campi sono la scissa e l'ordinata oppure la x e la y una coppia di valori ciò che dobbiamo fare è leggere i dati dal file che contiene questi numeri e creare un secondo file che contenga la differenza x-y quindi un secondo file che contenga anche lì un dato questa volta un record per riga ma questo record avrà un campo solo un valore solo che è appunto la differenza calcolata ok quindi possiamo fare aprire un nuovo esempio qui ci facciamo un file così al volo allora creiamo il programmino file e lo chiamiamo differenze e prima di scrivere il programma ci creiamo anche il file di esempio usiamo lo stesso nome che c'era sulle slide che se non sbaglio si chiamava estremi.dat ok e questo estremi.dat l'hanno chiamato dat anziché txt seguiamo ciò che dicono sulle slide ci mettiamo dentro un po' di numeri ok possiamo mettere questi qua 23,32 se vogliamo metteteli quelli che volete 2,11 19,6 grazie eccolo qua 19,6, 23,5, 3,2 via ok questo è il nostro file di dati allora vogliamo scrivere questo programmino che lega questo file di dati calcola la differenza e crea un file di uscita che contiene appunto le differenze quindi mi definisco magari due costanti come file name di input lo chiamo estremi.dat file name di output lo chiamo nell'esempio lo chiamo differenze.dat così non ho delle stringhe che vanno in giro nel programma ho definito due costanti e all'inizio aprirò questi file rispettivamente in lettura o in scrittura allora la prima cosa apro gestisco la lettura del file ok quindi posso chiamarlo file estremi uguale open del nome del file la modalità di apertura quindi lettura read e l'encoding che ricordiamoci sempre di specificare e poi ovviamente questo file visto che l'ho aperto in modo tradizionale non con le istruzioni width mi ricordo di chiuderlo quindi lo scrivo subito il close una volta che il file è aperto lo posso leggere un record per linea ma in modo più comodo probabilmente è for usare un ciclo for che itera su una stringa chiamato line sulle varie righe del file adesso ciascuna riga che cosa conterrà conterrà il primo numero spazio secondo numero barra n e la capo quindi i vari campi i campi di questa riga li posso ottenere prendendo la linea cancellando la capo che mi trovo in fondo e poi dividendo la stringa in corrispondenza degli spazi line mi rappresenta la linea line.rstrip la linea senza il barra n finale o eventuali spazi finali se ci fossero di questa facendo una split senza parametro vuol dire split sugli spazi altrimenti dovrei mettere tra parentesi su quale carattere dividere mi da una lista di stringe che se tutto va bene questi campi saranno due il primo campo rappresenta la x attenzione che però è una stringa la esito di una split è sempre una lista di stringe quindi se mi servono dei numeri li devo convertire io la x sarà l'int di campi di 0 la y sarà int di campi di 1 vediamo cosa abbiamo combinato proviamo a stampare x y e vediamo se ci stampa effettivamente il contenuto del file senza errori direi di sì che questi dati qua sotto sembrano loro quindi abbiamo tre passaggi leggo una riga la separo nei campi e poi estraggo il valore specifico dei campi lo salvando quindi x y dov'è? in questo caso l'ho stampato devo fare la differenza salvare su un secondo file va bene se volessimo ricordarci questi dati perché magari dobbiamo elaborare in modi diversi come potremmo memorizzare questi valori che stiamo leggendo? cioè io vorrei avere una variabile una struttura dati una lista un qualcosa che alla fine di questo ciclo contenga tutti i dati che c'erano nel file allora quello che potrei fare è una tabella una lista di liste i campi di ogni riga li mettono in una lista e quindi rappresentano le colonne della tabella e le righe stesse del file il record rappresenteranno le righe di questa tabella quindi se volessi potrei creare una tabella dati a cui ogni volta che leggo un dato aggiungo una riga che è composta da una lista di due elementi x e y non appendo la x e poi appendo la y perché altrimenti avrei tutti i dati mescolati tutti i dati in fila però non sta per più riconoscere quali sono le x e quali sono le y se no andando a vedere la posizione pari la posizione dispare ma chi me lo fa fare? conoscendo le tabelle noi a questo punto possiamo dopo la chiusura del file dopo che abbiamo scritto il ciclo vedere che i nostri dati che abbiamo letto sono adesso memorizzati lo vedete là sotto come ultima riga proprio in una tabella in una lista di liste dove le righe corrispondono ai record e le colonne corrispondono ai campi prima colonna la x la seconda colonna la y se vi piace potete fare una lista di liste se vi piace potete fare una lista di tuple semplicemente mettendo la parentesi tonda anziché la parentesi quadre nel record che aggiungete alla fine non cambia quasi nulla la differenza che la lista una tupla non è modificabile quindi se sapete che sono dati che dovete leggere e non modificare lo create come tuple evitate di modificarli per sbaglio ma non è diciamo così non ci fa grossa differenza salvo il fatto di mettere le cose giuste vedremo non la settimana prossima ma che è monca ma quella successiva che esiste anche un altro modo di rappresentare delle coppie o degli insiemi di campi ricordandosene anche il nome cioè qual è il problema solo di questa struttura a tabella che io mi devo ricordare che la prima colonna di questa tabella rappresenta le x e la seconda rappresenta le y questa informazione non c'è scritta da nessuna parte la struttura dati che vedremo chiama dizionari invece ci permette proprio di ricordarci di scrivere questa informazione direttamente dentro la struttura dati ma ce ne occupiamo dopo per adesso ci basta così e poi voglio calcolare la differenza e stamparla quindi anche qua avrò i due modi no? la domanda che mi faccio sempre quando devo elaborare i contenuti di un file è i calcoli l'elaborazione la faccio mentre leggo il file o la faccio a posteriori dopo che l'ho letto? allora mentre leggo il file in questo caso è banale perché basta calcolare la differenza che sia x-y e potrai direttamente salvarla nel file di uscita quindi leggo una riga la analizzo ne estraggo i campi calcolo il valore che devo fare e lo uso subito in questo caso in questo caso non avrei ovviamente bisogno di salvarmeli questi dati perché lo prendo faccio subito i calcoli che devo fare e li dimentico immediatamente altrimenti se mi salvo i dati allora potrò tranquillamente non fare nulla ma semplicemente leggere e salvare i dati e dopo quando ho finito di leggere posso aprire il file e stamparlo e diciamo così fare i calcoli e poi eventualmente stampare il file di uscita quindi mantenere separata l'operazione di lettura dall'operazione di elaborazione dall'operazione di creazione dell'output in questo caso noi potremmo tranquillamente dire ho letto il file ho la tabella dati analizzo questa tabella per creare per calcolarmi un'altra lista che conterrà le differenze quindi calcolo differenze e le metto tutte in una lista analizzando ciascun record all'interno della tabella dei dati non lo chiamo più rega lo chiamo record per ricordarmi che cos'è dove ogni volta dovrò aggiungere alla lista delle differenze la differenza è di x-y e x è record di 0 meno record di 1 e alla fine cosa ho ottenuto? una lista che contiene solamente le differenze 23-82 2-11 19-6 e così via meno 9-9 13-18 e 1 una volta che ho questa lista la posso salvare il file di uscita quindi potrò aprire un file di uscita qui all'inizio all'inizio lo chiamavo file di estremi chiamiamolo file di con le differenze apriamo apriamo il file di output in modalità scrittura encoding utf8 file differenze punto close e qua ci devo costruire il contenuto del file di uscita dovrò creare una riga per ogni differenza quindi qua posso iterare su questa lista dif che ho calcolato for d in dif per ogni riga per ogni riga stampero creerò una nuova riga che contiene il valore di d file differenze punto write cosa devo specificare dentro write devo specificare una stringa che corrisponde a una riga intera qui non posso mettere d perché d è un intero devo mettere una stringa che contenga d e poi non basta perché se facessi così avrei un file in cui i numeri sono tutti appiccicati l'uno all'altro tutti su un'unica riga devo aggiungerci esplicitamente il barra n vediamo se è vero quello che ho detto ho creato un file differenze punto dat che contiene i numeri ok incolonati nel modo giusto se provaste se fossimo dimenticato di questo e avessimo semplicemente scritto d avremmo ottenuto un errore perché mi dice che l'argomento di write deve essere una stringa e non un intero ctrl z oppure può essere più comodo perché questo non è che sia molto leggibile potrei usare una stringa formattata dove fosse più facile vedete vedete cosa sto stampando stampa una stringa un f string dove c'è due cose dentro il valore di d tra graffe e il barra n un po' più veloce da scrivere alla fine è file underscore differenze alla fine ovviamente è la stessa cosa oppure c'è un terzo modo ancora che è quello di usare la funzione print come una normale print come facevamo prima per stampare la video ma specifichiamo l'attributo opzionale il parametro opzionale file uguale file differenze quindi fai come se fosse una print ma anziché stampare sulla consola video stampa tra virgolette dentro un file commentiamo queste due vediamo questa come si comporta come lo stampa il d lo stampa come lo stamperebbe la print quindi converte il numero in stringa me lo stampa e poi va a capo perché la print normalmente va a capo se non gli metto l'end diverso e ovviamente ottengo lo stesso identico risultato ok sono dipende un po' dalle nostre preferenze chiaramente sono tutti metodi equivalenti ok scegliete quello che preferite l'importante è che sia una stringa se uso write oppure se uso print che specifichi qual è un file aperto in scrittura perché print ovviamente deve lavorare con un file aperto in scrittura un file di testo aperto in scrittura allora in questo modo se vogliamo abbiamo uno schema un po' generale leggo e memorizzo i dati da qualche parte pensando prima a come memorizzarli in questo caso abbiamo scelto una tabella di tante righe per due colonne poi faccio i calcoli che devo fare su questi dati e questa parte centrale del programma non coinvolge i file lavoro in memoria sulle mie variabili e poi alla fine se devo costruire un output a video oppure su un file lo faccio in una parte separata in questa terza parte input elaborazione output se ho delle elaborazioni complicate da fare se ho dei dati complessi da leggere o da stampare conviene secondo me separare le varie parti l'unico inconveniente è che scriviamo un po' più in più di righe di codice perché facciamo tre cicli uno per leggere, uno per lavorare, uno per stampare e nel caso in cui il file fosse molto grande contenesse molti dati noi comunque occupiamo con queste strutture dati una quantità di memoria corrispondente alla dimensione totale dei dati che stiamo trattando l'alternativa ovviamente sarebbe per un esercizio stupido come questo semplice come questo semplice come questo sarebbe di fare tutto in un unico ciclo quindi vediamolo solo per differenza chiamiamo differenze 2 dove ci vado di fatto a prendere il ciclo di lettura ok e man mano che leggo i dati x e y come facevo già prima calcolo la loro differenza quindi non uso più la lista dati la tabella leggo dei dati calcolo la differenza e immediatamente raggiungo il file di uscita il file di uscita che ora ovviamente dovrò aprire quindi apro all'inizio sia il file di ingresso che il file di uscita e quindi quindi qua potrò stampare il risultato nel file di uscita subito dopo che l'ho calcolato ovviamente ricordandomi che anche il file delle differenze va chiuso quando ho finito quindi questo ovviamente è più breve perché faccio un ciclo solo tengo aperti due file leggo da un file estrago i campi faccio l'elaborazione e quello del risultato lo stampo sull'altro file quando passo alla riga successiva posso dimenticarmi tutti i valori della riga precedente perché in questo esercizio potevo farlo se già mi chiedessero di dire mettili in ordine crescente oppure dimmi se la prima riga è uguale all'ultima e non posso più dimenticare la prima riga quando leggo la seconda in questo caso potevo quando posso faccio più in fretta in generale invece conviene separare vediamo, approfittiamone anche per vedere l'istruzione with allora se io riprendo il primo file e volessi fare esattamente la stessa cosa usando il costrutto with scriverei with open metto esattamente la stessa istruzione di open come prima la variabile del file specifico con la clausola es file differenze due punti e questi due punti mi apre un altro blocco indentato dentro cui faccio l'operazione di scrittura quindi ford indif printd file uguale file differenze basta finito lì non ho bisogno di fare la close perché automaticamente quando andrò alla riga successiva quando arrivo a questa print ho finito sono uscito dal blocco with e in automatico viene chiuso il file quindi quella variabile file differenze esiste solamente dentro quel blocco with semplicemente è un modo diverso di fare open e close se avessi bisogno di aprire più di un file contemporaneamente posso tranquillamente annidare uno dentro l'altro i vari blocchi with quindi se vado a prendere il file differenze due anziché fare queste due open lo scrivo sotto scriverei with questa cosa qua as file estremi due punti annidato with l'altro open del file name b output vabbè copio perché sono pigro copiate la cosa sbagliata as file differenze due punti e qui ci scrivo il blocco di lettura e scrittura che è uguale a quello di prima ovviamente leggerò i vari campi identico ok quindi sono dentro il primo width che devo ancora indentare questa parte qua così scegliete la forma che preferite sono assolutamente la stessa cosa open close oppure width open in questo caso tutto l'esercizio è banale perché l'unica operazione che dobbiamo fare è quella lì x-y vediamo qualcosa di un pochino più articolato allora ci vengono dati due file formattati in questo modo questi sono i file che vi ho mandato poco prima della lezione world pop e world area che li possiamo aprire qua per guardarli world pop rappresenta la popolazione degli stati del mondo quindi c'è il nome di uno stato spazio della sua popolazione world area rappresenta la superficie degli stessi stati degli stessi stati elencati nello stesso ordine sapere questo ci semplifica di mille volte il lavoro ok perché so che la prima riga del primo file contiene i dati dell'afghanistan e la prima riga del secondo file anche la centesima riga del primo file perché le righe qui sono tantine 238 la riga 200 del primo file contiene i dati dello Sri Lanka e se tutto va bene anche la riga 200 del secondo file conterrà i dati dello Sri Lanka in questo caso però della area ok cosa ci chiede l'esercizio l'esercizio ci chiede assumendo che l'ordine delle nazioni sia alfabetico e quindi uguale ai due file di costruire un terzo file che contenga la densità di popolazione dei due file esistenti la densità di popolazione altro non è che la popolazione diviso l'area no? e creare un file formatato in questo modo allora ovviamente la difficoltà non è fare la divisione questa volta avremo tre file due in ingresso e uno in uscita nel file di uscita dovremo creare una riga nuova per ogni coppia di righe per ogni riga del primo file virgola riga del secondo file quindi volendo potremmo andare avanti una riga per volta però prima di buttarci a scrivere il codice io qua ho provato a scrivere le domande comuni a cui devo prima dare una risposta prima di cominciare a implementare sono un po' generali cioè più o meno ho cercato di scrivere domande che valgono per tutti gli esercizi di questo tipo che hanno a che fare con l'elaborazione del file allora la prima domanda è la più importante perché poi da lì in avanti il programma assume una forma molto diversa che era quella che ci siamo fatti prima elaborare i dati al volo mentre li leggiamo che in questo caso vuol dire avere un ciclo in cui leggo una riga del primo file leggo una riga del secondo file, faccio il conto, salvo una riga sul terzo file e poi ricomincio dalla seconda riga, dalla terza riga eccetera eccetera oppure memorizzo i dati letti, poi li elaboro, poi genero l'output le due varianti che abbiamo visto prima nell'esercizio facile dei numeri è una scelta poi in funzione di questa scelta il programma si comporterebbe in modo diverso questa scelta la posso fare solo in alcuni casi chiaramente quelli in cui l'output lo posso calcolare riga per riga quindi l'output della quinta riga non dipende dai valori che leggerò nella sesta o nella settima al massimo può dipendere dai valori che ho letto in precedenza magari devo fare delle somme, devo fare dei conteggi allora in quel caso ho la scelta tra le due opportunità altrimenti non ho scelta, devo leggere, memorizzare e poi elaborare quali file devo leggere, quali file devo scrivere beh questo è facile, di solito il testo lo chiarisce però conviene che ciò chiariamo anche noi e in particolare di questi file li potrò aprire solamente se conosco come si chiamano il loro nome allora lì, facciamo attenzione, il nome è già predefinito e quindi lo scrivo nel testo del programma oppure lo devo chiedere all'utente il file si chiama sempre worldpop oppure l'utente può inserire il nome di un file e poi io aprirò il file che mi ha chiesto l'utente questo è un dettaglio se questa stringa che uso per aprire il file è una costante oppure un dato inserito da tastiera e poi devo decidere, una volta che ho aperto il file come iterare sul file, come leggere il contenuto del file per righe, per caratteri, per parole, tutto insieme i vari metodi che abbiamo visto, sono tutti validi per tutti i vari dipende da quello che mi è più comodo per i dati di questo singolo file per come sono strutturati i dati di questo singolo file e di che cosa ci devo fare qui ho messo il suggerimento se i dati sono strutturati come un record per linea conviene leggere una linea per volta così la granularità dell'operazione di lettura delle tue iterazioni del ciclo for a while coincide con la granularità dei dati ogni iterazione ha un dato nuovo un altro giro, un altro dato come sulle giostre a questo punto in un caso di un file organizzato per linee una volta che ho detto la linea devo estrarre i campi e separarli prima l'avevo fatto semplicemente con la split poi devo capire dopo la split cosa mi rimane in mano perché avendo separato i dati poi ho tante stringhe queste stringhe a loro volta eventualmente forse devono essere ripulite magari c'è degli spazi in più davanti o dietro dei numeri che devono essere, delle stringhe numeriche che devono essere convertite in numero vero e proprio quindi ho separato i campi a questo punto prendo il singolo campo lo ripulisco, magari vi faccio una strip per cancellare eventuali spazi davanti e dietro che siano rimasti tra il separatore e il numero e poi lo uso se devo fare cose un po' complicate mi conviene come sempre spezzare il programma in più funzioni ciascuno delle quali faccia una di queste parti sono domande da porci la risposta non c'è cioè non c'è una risposta sempre giusta o sempre vera l'unica risposta che è sempre giusta è dipende dipende dai casi, dipende da cosa voglio farsi dipende se ho fretta, dipende da quali sono dove sono le difficoltà che l'esercizio mi pone devo avere un minimo di agilità di sapermi muovere tra le varie possibilità e poi scegliere quella che in quel momento mi è più comoda ok? allora proviamo a senza sbirciare come è risolto sulle slide a risolverlo insieme come è formattato questo file? è un file sicuramente strutturato dove c'è un dato per riga in più sappiamo che queste righe ci servisse saperlo, sono in ordine alfabetico in ogni riga ci sono due campi un nome e un numero però sono separati in un modo un po' antipatico perché sicuramente tra il nome dello stato e la popolazione c'è uno spazio o più spazi ma può capitare che ci siano degli spazi anche dentro il nome della nazione allora io voglio prendere una riga come questa e separarla in un nome e in un numero potevano separarli con una virgola, con due punti, con un asterisco eh no, non è peccato non l'hanno fatto non li conosco neanche per potergli dire due parole al telefono allora cosa posso fare? a me vengono a mente due possibilità non so se sono le stesse che vengono a mente a voi la prima è faccio uno split e poi rifaccio join vediamolo interattivamente questa maledetta stringa questa maledetta riga me la salvo in una stringa vado in modo interattivo e lo salviamo come riga uguale questa cosa qua ops ok tra l'altro mettendo una stringa mi fa vedere che in realtà questi questi campi non sono solo separati da spazi ma questo barrati indica il carattere di tabulazione il tab della tastiera quindi sono separati da un gentile miscuglio di spazi e tabulazioni vabbè allora io cosa potrei fare? potrei fare riga.split e cosa mi da riga.split? il carattere.split mi da ovviamente una lista di quattro elementi quattro, uno, due, cinque, otto dipende da quanto è composto quel nome allora una cosa che vedo e mi fa piacere è che split fa già pulizia degli spazi doppi delle tabulazioni usate al posto degli spazi eccetera perché per lei tutto ciò che è spazio o sequenza di più spazi consecutivi lei lo tratta come un unico separatore attenzione che è diverso se io facessi split di spazio se io facessi uno split sullo spazio sul singolo spazio il carattere di tabulazione non verrebbe considerato come parte dei separatori e quindi entrerebbe dentro in questo caso l'ultimo degli elementi barbuda spazio tab 443 quindi dire che avere uno split senza argomenti è equivalente ad avere uno spazio non è esattamente vero ok? senza argomenti significa lui taglia su qualunque combinazione di quello che viene chiamato white space tutti i caratteri invisibili spazio tab è a capo essenzialmente qui a capo non ne abbiamo quindi è meglio usare questa prima forma direi che comunque mi divide la riga in troppi campi vabbè ma allora la popolazione è facile da prendere perché basta che io prenda l'ultimo campo quindi riga punto split di meno uno vediamo se viene giusto cosa ho fatto qua? riga punto split so che cos'è è questa cosa qua di questa lista prendo l'ultimo elemento meno uno quindi riga punto split è quella lista di sopra di cui prendo l'ultimo elemento lo indizzo con meno uno e ovviamente lo converto in intero e questo mi da 443 poi mi picchia sulla manina perché ho chiamato una varia delle pop e pop è già il nome di una funzione predefinita e quindi creo guai quindi dovrei cambiare il nome quella variabile e quindi la popolazione riesco a riprendere in questo modo non che sta roba qua sia leggibile se uno arriva qua e vede sta roba è uscito di senno cosa sta facendo? noi lo capiamo perché l'abbiamo seguito passo passo se vogliamo avere un codice leggibile magari ci salviamo una variabile intermedia in cui c'è la lista e poi vado a prendere la lista di meno uno ok e invece per quanto riguarda la nazione beh la nazione io potrei prendere sempre il mio riga punto split e prendo tutte scusate e mi da la lista posso prendere tutta la lista tranne l'ultimo elemento ok? l'ultimo elemento non lo voglio quindi dall'inizio fino all'ultimo escluso sembra quella una faccina aperta quadra due punti meno uno chiusa quadra e invece no è una slice che prende tutti gli elementi tranne l'ultimo però ce l'ho sotto la forma di lista a me serve una stringa e vabbè le rimetto insieme usando la join separandole con uno spazio eccolo qua allora per ringraziare chi ha costruito questo file con questi separatori particolari dobbiamo fare un po' di salti mortali per riuscire a separare la popolazione dal nome della nazione dimmi lui ha un'altra idea lui dice però dovrei andare a verificarlo lui dice ma possiamo fare la split sul carattere di tab forse sì bisogna solo vedere se questo tab è un incidente che capita solo su questa su questo voce o se veramente è una regola per cui su tutte le righe c'è effettivamente un carattere di tabulazione se facciamo questa verifica può darsi che sia una buona soluzione attenzione che poi nel primo nome cioè prima del tab c'è una stringa che termina con uno spazio sembra che ci sia dappertutto quindi bisogna poi ripulire questo spazio un altro modo se non ricordo male è usare una funzione che si chiama r strip r split r split no non mi isolo di nulla no si aspetta r split cercando di far venire la documentazione eccola qua con una r split r split funziona come split la r vuol dire che parte da destra ok se parte da destra ha un parametro di più che si chiama max split che corrisponde al numero massimo di valori che mi restituisce quindi potrebbe essere un modo per prendersi la popolazione cioè leggo la stringa da destra al massimo un campo solo separato da spazi bianchi quindi in questo caso avrei max split uguale 1 uguale 0 no non funziona come non detto idea sbagliata pensavo che questa max split potesse funzionare con 1 invece ah no è giusto guarda che bravo non bravo la funzione non bravo io separa la stringa usando comunque un meccanismo di split ma lo splitta solamente una volta e quindi dopo che ha separato parte da destra 443 trova lo spazio ah qui devo tagliare e quindi prepara l'ultimo elemento della vista poi che gli ho dato il max split uguale 1 da qui in avanti non cerca più di tagliare gli spazi e quindi se ci sono degli spazi li prende normalmente come contenuto della stringa dimmi un altro carattere lo specifico come primo argomento qua della r split quindi r split tra apici asterisco o due punti o virgola e poi max split se voglio a 2 scritto qua la documentazione la fa sempre solo vedere quando vuole quindi ha due argomenti un separatore e il max split se il separatore è non cioè non lo metto splitta sul white space ok allora questo c'è un il formato del file c'è un po' complicato la vita ma a questo punto abbiamo almeno queste due soluzioni la prima un pochino più sotto il nostro controllo perché sappiamo cosa abbiamo fatto la seconda un pochino più di culo perché ci siamo ricordati che c'è una funzione guarda caso fa proprio ciò che ci serve questo lo cancelliamo poi ok? ma entrambe fanno lo stesso risultato ovviamente qui ho una lista il primo elemento è la stringa che contiene la nazione il secondo convertito in intero è la popolazione allora avendo risolto questo problema possiamo avendo speso un po' di tempo per sperimentare e risolvere questo problema possiamo passare a risolvere l'esercizio quindi lo chiamiamo densità di popolazione in cui avrò il file con la popolazione che si chiama word pop il file con l'area che si chiama indovina te word area e poi dovrò costruire il file con la densità che chiamerò word dice il testo come devo chiamarlo word pop density vabbè rld pop density .txt allora possiamo aprire due file qui a questo punto possiamo elaborare tutto in un unico ciclo scegliamo l'opzione veloce di non memorizzare i dati in una struttura dati apriamo due file anzi i tre file contemporaneamente primo e secondo e il terzo quindi avrò il file della popolazione uguale open file pop in modalità di lettura encoding uguale in tutti questi esempi l'encoding non serviva niente perché non contenevano caratteri accentati o particolari però per abitudine poi avrò un file con l'area apro il file area e provo un terzo file con la densità e apro il file dense questa volta però lo apro in scrittura quindi non r ma w alla fine del programma ovviamente dovrò chiudere il file 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 area punto close file densità punto close a questo punto dobbiamo leggere elaborare e scrivere dobbiamo leggere in parallelo dei due file quindi ogni volta che leggo una riga dal file di popolazione dovrò leggere una riga corrispondente anche dal file delle aree quindi posso leggere una riga del file di popolazione come file pop punto read line una riga del file dell'area come file area punto read line finché ad esempio riga pop è diverso da stringa vuota and riga d'area è diverso da stringa vuota cioè finché non sono arrivato alla fine del file di nessuno dei due dovrei arrivarci insieme alla fine del file perché sono lunghi uguale però in ogni caso se uno dei due per errore finisse prima mi fermo comunque no? interrompo il while perché non posso più andare avanti se non ho le righe corrispondenti allora una volta che ho la riga estraggo i dati faccio la densità e la stampo quindi abbiamo visto che per estrarre i dati posso avere che la popolazione uguale int diriga pop punto split e attenzione che qua c'è ancora il barra n quindi prima togliamolo r strip split ultimo elemento convertito in intero la nazione ci abbiamo giocato prima devo fare una join sugli spazi della mia riga pop tolgo il barra n finale che nel nostro esempio non ci avevamo il barra n quindi non avevo fatto questa strip punto split di tutti gli elementi tra nell'ultimo tratta quadra due punti meno uno o poi facciamo una print di verifica perché sta roba qua e poi l'area che sarà lo stesso trattamento che ho fatto alla riga della popolazione quindi l'intero dell'ultimo elemento però non su riga pop ma su riga area proviamo a vedere cosa abbiamo fatto print nazione popolazione area eh sicuramente l'afghanistan lo stiamo studiando bene però ci siamo dimenticati di fare le read line per andare avanti ok dopo che ho elaborato un dato leggo le righe successive per prepararmi all'interazione successiva ok sembrerebbe una cosa decente che è poi ciò che dovremmo stampare sul file di uscita ok ok sembrerebbe una cosa decente che è poi ciò che dovremmo stampare sul file di uscita ok ok questa cosa qua direi che siamo a posto basta che io anziché stamparmela video dica alla print di mettermela sul file file densità no scemo non questa popolazione diviso area non questa popolazione diviso area division by zero perché c'è un stato che ha area zero eh sì guardalo qua mannaggia il vaticano allora eh vabbè abbiamo fatto bene a verificarlo if area diverso da zero stampa questo altrimenti non è che possiamo cancellarla con la nazione dovremmo scrivere non so nazione e al posto della densità ci mettiamo asterisco non so file uguale file densità per dire che lì dentro un file quel dato lì numerico non ci può essere allora abbiamo creato un file che si può chiamare world pop density dove ci sono nazioni e numeri e vediamo se il vaticano non ci ha bloccato il programma dove era? e abbiamo esso un asterisco poi voglio vedere quando sono contenti quelli che dovranno leggere questo file e faranno int su quel campo e si beccano un asterisco è un problema perché in alcuni casi ci sono dei dati mancanti o non validi e quindi dovremmo sapere se ci sono gestirli opportunamente non ce l'hanno scritto nel test sulle slide attenzione che l'area può essere zero l'abbiamo scoperto nel modo peggiore adesso in realtà ciò che abbiamo stampato non è esattamente ciò che vorremmo vedere perché qui ci faceva vedere tutti i belli allineati carini no? vabbè però questo lo sappiamo fare basta usare un po' di f string quindi usiamo questa cosa qua in una stringa formattata in cui ci metto la nazione magari su 20 caratteri spazio la popolazione diviso area dunque vediamo 5.2 no 6.2 vediamo cosa esce come allineamento eh questo puramente per l'allineamento e quindi ho dove ho ah qui me lo metto in notazione scientifica per evitarlo devo usare F per dire un float normale ok allineato a destra poi in realtà ci sono dei nomi di stati troppo lunghi e quindi io avevo dato solo 20 caratteri diamone 40 eh sembra un po' meglio tranne il fatto che ci sono alcune densità maggiore di 1000 e allora non mi bastano 6 caratteri in totale mettiamone 8 come sempre le parti estetiche portano via un mare di tempo perché sono piene di casi particolari ok adesso questo asterisco lo devo mettere a posto eh anche nel caso in cui l'area è uguale a 0 ci metto questa stessa F string dove al posto della popolazione ci metterò oh dunque un asterisco da solo sto pensando come fare gli 8 caratteri ma così eh infatti me l'ha messo a sinistra anziché a destra dovrei ammettere questo asterisco a sua volta è una stringa allineata a sinistra a destra su 8 caratteri vediamo se viene così ok però vabbè queste cose qui sono cose antipatiche di dettaglio uno deve andarsi a vedere caratteri di formatazione ma non non impattano sull'algoritmo no? sul funzionamento corretto del programma se vogliamo solamente sull'allineamento e l'estetica del risultato la difficoltà qua era due una l'avevamo già vista analizzare il formato del file che era un po' strano non ci bastava fare un semplice split e l'altra gestire dei casi particolari di cui ci siamo accorti solamente eseguendo il programma per la prima volta ok? allora con questo successone possiamo fare intervallo quindi quindici minuti siamo arrivati precisi alle 13 quindi ok 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 ok